Ringrazio l'amico professor Manotti Lerro e anche il sindaco ovviamente di Orria perché questa bella serata, questa spensa serata culturale, parlando della piramide del Cilento, della quale Salento perlomeno occupa un bel posto, un posto abbastanza importante con il paese della poesia, che abbiamo fatto insieme a Menotti e che è diventato ormai un premio a livello internazionale. Dunque spero che questa iniziativa di Menotti continua a crescere, ormai ha coinvolto 25 comuni e spero che possano diventare anche di più, ma soprattutto che in questi 25 comuni cresca effettivamente questa collaborazione e che porti la piramide culturale del Cilento sempre più in alto, perché lo merita il Cilento e lo merita anche Menotti per l'opera continua e costante che fa per portare in alto il nostro territorio. Grazie.